La Regione Marche, così ricca e variegata, proprio nel suo cuore si contraddistingue per comuni e borghi che animano lo spirito in tutte le sue forme. Questi luoghi prendono il nome di borghi dell'infinito. Oggi vogliamo soffermarci su quelli che geograficamente, forse per caso o forse no, formano un vero triangolo, sui cui vertici si fondano, oltre a bellezze senza uguali, alcuni elementi puri che animano lo spirito, come l'arte, la cultura, la spiritualità. Dobbiamo assolutamente visitarli. Discovery Marche, il triangolo dei borghi dell'infinito. Vertice sud del triangolo dei borghi dell'infinito. In questo borgo abita la poesia, che si incontra in ogni angolo del paese. Posta sul monte Tabor, o anche chiamato Ermo Colle, che tanto ispirò il grande poeta Giacomo Leopardi. Siamo a Re Canati. Oggi vogliamo lasciarci avvolgere da questi luoghi, lasciandogli esprimere come sanni. E la nostra passeggiata inizia proprio da qui, da Piazza Leopardi, dove sorge la Torre del Borgo, che fu per il poeta fonte di rimembranze fanciullesche. Grazie. 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 SILVIA SILVIA Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Sempre caro mi fu quest'ermocolle, e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. SILVIA Vertice nord del triangolo dei borghi dell'infinito. Siamo arrivati a Castelfidardo. Città dell'Unità d'Italia, perché proprio qui avvenne una grande battaglia che contribuì a rendere possibile la proclamazione della nascita del Regno d'Italia. Ma è nella tradizione musicale che Castelfidardo esprime il suo maggiore potenziale, in particolare nella grande tradizione della fisarmonica, che è nata proprio qui e che dall'Ottocento porta le sue note in giro per tutto il mondo. SILVIA 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 Wow, la musica è un linguaggio universale, che unisce qualsiasi individuo anche mai incontrato prima. Castelfidardo lo sa e sa farci sentire come a casa. Terzo vertice del Triangolo dei Borghi dell'Infinito. Qui regna la pace, la spiritualità e l'amore verso il prossimo. E' uno dei santuari mariani più importanti del mondo e custode della Madonna Nera, anche protettrice degli aviatori. Siamo appena arrivati e siamo catturati dalla suggestiva atmosfera che ci avvolge. Siamo a Loreto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Loreto ha delle vedute impareggiabili da ogni punto panoramico. Si può godere del Conero e del mare Adriatico. E proprio grazie al Monte Conero gli abitanti del luogo riescono ad organizzarsi per il meteo. Se il Conero è nitido sarà una bella giornata. Se il monte ha il cappello meglio munirsi di ombrello. Questi luoghi magici posti in collina ci hanno letteralmente affascinato e ci hanno lasciato la voglia di tornare a visitarli il più presto possibile. E dalla collina alla splendida riviera del Conero il salto è breve, molto breve. Discovery Marche, il triangolo dei borghi dell'infinito. Noi li abbiamo visitati. E voi? E voi? Noi. 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 Noi.